Il centenario della Castiglionese e oggi omaggiamo, martedì ci sarà la grande festa, omaggiamo la Castiglionese 1969-1970, una squadra di cui faceva parte Carlo Benucci. Tra l'altro questa squadra che primato ha? Ha un primato che è la prima squadra della Castiglionese che compie 100 anni quest'anno, che ha vinto il campionato di seconda categoria. Qui abbiamo dei validi campioni, Santini che ha giocato nei ragazzi della Juventus, Senesi che ha giocato nella nazionale di categoria e Bagnoli. Poi abbiamo il coach, il nostro coach da Firenze è venuto appositamente per questa televisione, Fabrizio Mazzocchi e poi il giornalista dell'Inter l'Andaretino, il nostro Mario Domenichelli che è l'estensore del volume che prenderà le sembianze, praticamente verrà presentato alla comunità di Castiglioni ma di tutta la comunità della provincia martedì prossimo, martedì 19 marzo. Magliano, in questo libro quindi si che percorre la storia della Castiglionese? Fino al 1944, diciamo, è stato un calcio soltanto a livello provinciale, con prima la FIDAL, poi la ULIC, l'Unione Libera a gioco calcio, poi subito dopo la guerra mondiale, dal 1945-1946, c'è stata l'iscrizione della PNN italiana a gioco calcio e da allora è sempre stato iscritto. Una particolarità della Unione Sportiva Castiglionese che è l'unica della provincia di Arezzo e nella Toscana è fra le 5 o 6 società che possono vantare il centenario. Centenario che è sempre stato fatto con lo stesso nome e con lo stesso statuto, vale a dire nel 1945, quando ripartì il campionato, furono ripressi gli statuti del 19, confermati gli statuti del 19 e l'iscrizione come Unione Sportiva Castiglionese nel 1919. Mister, quella squadra 69-70, come è stato allenarla? Come è stato allenarla? È stato un caso, una combinazione. Io era il secondo anno che allenavo, avevo 30 anni e non è stato il caso di farmi venire a Castiglion-Fiorentino, una combinazione che ora diventerebbe lunghissimo. Ho trovato una squadra, direi, sono stato fortunato ad allenare una squadra così perché era piena di elementi validi tecnicamente ma ancora di più a livello umano, per cui le squadre si fanno con gli aspetti tecnici, tattici, ma prevalentemente vale sempre il discorso dell'aspetto umano. Questa squadra veramente aveva dei valori che ci hanno permesso di compiere quel campionato che è stato, direi, un ricordo indelebile, insomma. Qual è stata l'arma vincente? Io. Anche la difesa, come il mister ci istruiva, ci costava, ma avevamo l'arma vincente perché allora si giocava col libero e lo stoppe. Io ero lo stoppe, venivo dalle giovanili dell'Arezzo, ero, diciamo che il mister me lo diceva sempre, una cosa, diciamo una forza in più che aveva questa squadra che permetteva al libero di andare avanti siccome era bravo di colpire di testa per fare gol. Quindi un gruppo molto unito. No, unitissimo. Questa è il signor Santini, voglio... Ha passato la palla. Lo presento io. Sa ancora passare la palla. Lo presento io. Te l'ha detto il mister di passare la palla. Lo presento io. È arrivato fino alla Juventus? Sì, sì, sì. Il settore giovanile, insieme a Nardin, ti ricordi Nardin? Poi Gabriele Boncompagni, Pucci e Pancini. Perché avevamo vinto la Coppa Toscana, ecco perché fu questo stacco. Quella stagione il ricordo più bello? Ora non vorrei fare il romantico, ma era il gruppo che trovai, era un gruppo in cui si stava bene. L'unico posto in cui non si stava bene era la cosiddetta spiaggina. E guarda, per chiamare la spiaggina qualcuno doveva aver bevuto molto.